Benvenuti a Torino Web News, torniamo questa settimana al Castello di Rivoli che presenta proprio in questi giorni il suo personale contributo al progetto Arte Povera 2011 curato da Germano Celan. Nelle sale del museo sono presenti le opere dei protagonisti del movimento affiancate a quelle dei protagonisti dell'arte internazionale dell'epoca. Le opere selezionate provengono da collezioni museali e da una fitta rete di collezionisti privati che dalla fine degli anni Sessanta si sono occupati di Arte Povera. Gli artisti internazionali sono stati selezionati attraverso una curata ricerca scientifica delle mostre che dal 66 e 72 hanno messo in relazione l'arte povera con le diverse correnti internazionali come la Land Art, la Conceptual e Body Art. Le sale dei due piani del Castello ospitano quindi un discorso autonomo dei singoli artisti dell'arte povera e uno in parallelo con personalità come Vito Acconci, Carl Andre, John Baldessarri, Robert Barri, Daniel Burain e molti altri. La grande mostra evento Arte Povera 2011 si svolge contemporaneamente sino a febbraio 2012 in diverse e importanti istituzioni museali e culturali italiane. Il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, la Triennale di Milano, la Gamecchia Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, il Mambo di Bologna, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e il Maxi Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, il Madre, il Museo d'Arte Contemporanea Donna Regina di Napoli e il Teatro Margherita di Bari. E adesso come sempre uno sguardo agli altri appuntamenti d'arte e musica nei prossimi giorni. È stata inaugurata al Museo Nazionale del Cinema Molle Antoneglian la mostra Robert Altman America America. Curata da Emanuele Martini, la mostra è organizzata in occasione della retrospettiva completa dedicata al regista americano dal 29esimo Torino Film Festival. Resterà allestita fino al 29 gennaio 2012. Martedì 18 ottobre alle ore 21 al Conservatorio Giuseppe Verdi, concerto dell'Orchestra Filarmonica di Torino, stagione 2011-2012. La programmazione persegue le lille che hanno dettato il successo di pubblico e critica riscosso dall'orchestra negli anni precedenti. L'edite sfide tematiche, ricerca di modalità di ascolto inconsuete e commissioni di nuova musica. Giovedì 20 ottobre alle 20.30 invece all'Adutormo Rai Arturo Toscalini l'Orchestra Sinfonica della Salone della Rai esegue un concerto con musiche di Mendelssohn e Tchaikovsky alla direzione d'orchestra Jura Ivalcua. Martedì 18 ottobre al Teatro Astra va in scena il primo di tre ride in concerto concepiti per la riscoperta della letteratura mondiale attraverso le icone del rock. Massimo Giovara, Guendalila Tondo, Riccardo Giovinetto e Federico Marchesano riscoprono David Bowie, l'uomo delle stelle. E arriva anche la tappa torinese per il Casa 69 Tour dei Negramaro che mercoledì 19 ottobre alle ore 21 salgono sul palco del Palo Olimpico Isozaki. Per questa puntata è tutto, vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo il Castello di Rivoli per averci ospitato e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci dalla redazione web della città.